Ciao, oggi completiamo le conversioni parlando di quella d'analogico a digitale. Ciao, con questo video completiamo la parte teorica dell'elettronica digitale. Bene, nei normali circuiti digitali possiamo inviare una tensione analogica, ma solo se è inferiore ad una certa soglia viene riconosciuta come livello basso, e se è superiore ad un'altra soglia viene riconosciuta a livello alto. Ad esempio, nell'integrato 74LS00 contenente 4 porte NAND, se si invia fino a circa 0,8 V in un ingresso viene garantito il riconoscimento come livello logico basso e circa sopra i 2 V viene garantito il riconoscimento come livello logico alto. C'è quindi un intervallo di tensione elettrica abbastanza ampio in cui non si può avere certezza del risultato elaborato da questa porta logica. Occorre quindi presentare un componente nuovo, ma siccome può fare molte cose, per il momento ci limitiamo a mostrare una sola funzione, quella che ci serve adesso. Questo componente si chiama amplificatore operazionale. Ha due ingressi indicati col simbolo più e col simbolo meno e chiamati non invertente e invertente. Si usa molto nell'elettronica analogica. In questi ingressi praticamente non passa corrente e viene solo misurata la tensione elettrica che viene applicata. La differenza di potenziale tra il piedino non invertente e il piedino invertente viene amplificata intorno al milione di volte e inviata all'uscita. Oggi lo useremo come comparatore analogico. In pratica, se la tensione è maggiore sul piedino non invertente rispetto a quello invertente, all'uscita dell'amplificatore troviamo il positivo dell'alimentazione. In caso contrario, troveremo il negativo dell'alimentazione. Quindi, se facciamo un partitore con due esistenze uguali e inviamo 2,5 volte al piedino invertente e poi inviamo il nostro segnale analogico al piedino non invertente, quando il segnale analogico è sopra i 2,5 volte l'uscita sarà a livello alto e quando il segnale è sotto i 2,5 volte l'uscita sarà a livello basso. Con un amplificatore operazionale possiamo quindi fare una semplicissima trasformazione da analogico a digitale a un bit. Ottimo! Ma facciamo una ipotesi. Cosa succede se il segnale varia di piccole frazioni di volta intorno ai 2,5 volte? In questo caso, ogni piccola variazione che attraversa la soglia genera una variazione del segnale digitale. Il problema è quando queste variazioni non dipendono dalla fonte originale del segnale elettrico, ma sono dovute a disturbi generati da altri apparecchi nelle vicinanze che vengono sommati al nostro segnale e quindi le variazioni digitali in uscita potrebbero creare risultati non previsti. Per risolvere facilmente questo problema si potrebbe usare due comparatori e un latch, ovvero si fissano due sogli di tensione. Solo se il segnale analogico supera la soglia alta, allora il segnale in uscita passa a livello alto, mentre solo quando si abbassa oltre la soglia bassa, in uscita si ottiene un livello logico basso. Hai appena descritto il trigger di Smith, che funziona proprio in questo modo e viene usato negli ingressi dei circuiti quando c'è il rischio che il segnale non sia perfettamente rilevato come livello alto o livello basso, oppure abbia delle piccole variazioni che potrebbero essere interpretate in modo sbagliato. Torniamo però alla conversione da analogico a digitale. E se volessi avere un insieme di bit che descrivono la tensione elettrica del segnale in ingresso? In effetti questa è la conversione più interessante. In pratica ci sono molte situazioni in cui occorre misurare un segnale elettrico e tradurlo in un vado del binario. Ad esempio, un sensore potrebbe generare una tensione elettrica da 0 a 5 volt proporzionale alla quantità di liquido presente in un serbatoio. Con un semplice comparatore si può sapere se nel serbatoio è presente più della metà o meno della metà del liquido che si può immagazzinare. Se però si tratta della nostra auto, potremo fermarci spaventati al primo distributore anche se abbiamo la possibilità di fare ancora alcune centinaia di chilometri. Una possibilità potrebbe essere definire sette livelli invece di uno solo. Se colleghiamo otto resistenze tutte uguali in serie tra loro, ad ogni nodo colleghiamo l'ingresso invertente di sette comparatori e il segnale analogico in ingresso lo colleghiamo a tutti gli ingressi non invertenti, troveremo alcuni comparatori con l'uscita alta e alcuni con l'uscita bassa, a seconda della tensione analogica in ingresso. Ad esempio, inviando due volte l'ingresso, i primi tre comparatori generano un livello logico alto, mentre gli altri quattro comparatori un livello logico basso. Se inviamo quattro volte, i primi sei comparatori generano un livello logico alto e l'ultimo comparatore un livello logico basso. A seconda della tensione inviata, quindi, i comparatori che hanno sul piedino invertente una tensione più bassa di quella di ingresso avranno l'uscita alta. Inviando le sette uscite dei comparatori a un encoder, possiamo avere tre bit che rappresentano il valore binario del nostro segnale. Questo tipo di convertitore analogico digitale si chiama convertitore istantaneo o convertitore flash, perché il segnale analogico viene istantaneamente convertito in digitale. Con tre bit, comunque, la risoluzione del convertitore è bassa, ovvero un ottavo della massima escursione del segnale analogico. Nel caso di 5 volt, la risoluzione è poco più di mezzo volt. Per avere una risoluzione più alta, occorre aumentare il numero dei bit. Ma un bit in più vuol dire raddoppiare i comparatori analogici. E per avere almeno 8 bit, che non è una risoluzione alta, i comparatori diventano 255. È vero, papà. In questo caso, occorre sacrificare l'immediatezza della conversione, ma con il vantaggio di un circuito più semplice. Prendiamo un generatore di clock e un contattore a 8 bit e lasciamolo contare velocemente a ripetizione. Colleghiamo all'uscita del contattore un convertitore da digitale ad analogico. A questo punto abbiamo il nostro ingresso analogico da convertire e un altro segnale analogico che continua a passare dalla tensione minima alla massima. Inviando questi due segnali analogici a un comparatore operazionale, in particolare il segnale esterno lo inviamo al piedino invertente e quello generato dal convertitore lo inviamo a quello non invertente, dal comparatore otteniamo un livello basso quando il contattore sta generando un valore digitale inferiore al segnale analogico da convertire e un livello logico alto quando il valore del contattore di convertito in analogico è più alto del segnale analogico in ingresso. Il comparatore può quindi comandare un registro per memorizzare il valore generato dal contattore e inviare in uscita una serie di bit che rappresentano il valore digitale del segnale d'ingresso. Facciamo un esempio pratico. Abbiamo sempre un sistema che funziona a 5 volt. Il nostro segnale analogico in ingresso è di 1,82 volt e la parte digitale è tutta a 8 bit. Che succede? Come già detto, il contattore continua a generare un valore digitale binario da 0 a 255, ricominciando poi subito da 0. Riconvertendo questo valore in analogico, la nostra tensione va da 0 a 4,98 volt. Quando il contattore è a 93, dal convertitore digitale analogico otteniamo 1,81 volt. Mentre quando il contattore è a 94, otteniamo 1,83 volt. In questo momento il comparatore passa dal livello basso al livello alto e quindi fa memorizzare il valore binario 94 nel registro in uscita. Ma se volessimo avere più bit in uscita, come si fa? Per avere una conversione con più bit, basta aumentare i bit nel contattore, nel registro e nel convertitore digitale analogico. È abbastanza semplice da fare. Però per ogni bit aggiunto il tempo necessario per la conversione la doppia. Si può migliorare anche questo, con un convertitore ad approssimazioni successive. In pratica si comincia col solo bit più significativo a 1 e tutti gli altri a 0. Si converte in analogico e si confronta col segnale analogico in ingresso. Dal comparatore otteniamo il vero valore del primo bit. Prendiamo questo primo bit e mettiamo a 1 il secondo bit. Rifacciamo la conversione in analogico e il confronto col segnale in ingresso e otteniamo il secondo bit. Riconvertiamo in analogico i primi due bit trovati e il terzo bit lo impostiamo a 1 e continuiamo così fino a calcolare la conversione completa con tutti i bit. Con questo sistema la conversione diventa più veloce e se volessimo raddoppiare il numero dei bit e quindi migliorare la precisione della conversione, abbiamo solo un raddoppio del tempo necessario per la conversione. Esatto! Di questo convertitore ad approssimazioni successive abbiamo però visto solo la parte centrale del funzionamento. Occorrono quindi componenti per azzerare il sistema, controllare il bit che si sta misurando e inviare il risultato in uscita. Questo convertitore è stato mostrato in pratica solo per far capire come migliorare la velocità rispetto a quello con il contatore. La conversione da analogico a digitale è il passaggio fondamentale per inviare a un calcolatore informazioni da sensori semplici come fotoresistenze o anche banalmente dal joystick di un videogioco moderno. Ma ormai da alcuni decenni, senza che ci facciamo più caso, musiche telefonate sono l'esempio più evidente dell'importanza di convertire un segnale analogico in digitale per memorizzarlo, trasmetterlo a distanza e quando necessario anche elaborarlo per dargli degli effetti speciali. Un sistema semplice per fare esperimenti di conversione di un segnale analogico in digitale proprio con Arduino. Sono disponibili sei ingressi chiamati A0, A1, A2, A3, A4 e A5 che si possono usare anche per convertire una tensione da 0 a 5 volt in un numero da 0 a 1023 ovvero una conversione da analogico a 10 bit digitali. Arduino ha però un solo convertitore usabile con i 6 pin analogici ovvero non può convertire da analogico a digitale più pin in contemporanea. Inoltre la velocità del convertitore è di frazioni di millesimo di secondo. Questo vuol dire che Arduino va benissimo per sensori analogici di luminosità, temperatura o per i joystick gestiti a mano ma sarebbe troppo lento per convertire bene un segnale audio. Cosa possiamo ancora dire papà? Riguardo la teoria dell'elettronica digitale direi che abbiamo detto molte cose per far comprendere la materia ovviamente rimanendo a un livello facile facile. Nei prossimi video continueremo con qualche esperimento pratico di elettronica digitale. A presto, ciao a tutti! Ciao!